Non c'è tanto a metterlo a scaldare? No, non c'è tanto a metterlo in forno Tu non vedi ma è tutto pronto, è tutto si sta preparando Allora Il forno è acceso tramite il forno? Sì, sì, l'ho acceso io a destra Dani, apri il pezzo, ti metti Ecco, vedete quella ha la mano destra, cioè sinistra, c'è sul guanto Prima ce l'aveva anche quella che usa a mescolare col mestolo Poi notate la pecore Merinos al collo ancora Ecco Che si sfreghi bella, bella Ecco, adesso vedete il guanto che si vede benissimo, che ce l'aveva in mano nascosto Ecco, adesso lo mette giù perché non vuole far vedere che è proprio congelata Sono quanti da forno